VITAMOZUO Gruppi Telegram fissati nel primo commento Hola ragazzuoli Benvenuti in questo nuovo video su VITAMOZ Ragazzuoli oggi vi porto questo Fantastico outfit completamente Orange L'unico requisito che servirà Servirà i joggers arancioni Dopodiché dovete avere Nella vostra autofficina Questa missione qua Che si chiama inventario del treno Ok dovete avere questa missione La dovete avviare Si può avviare anche in solo Dopodiché vi recate Al porto Quindi ci sarà il pallino giallo Andate a prendere A questo furgoncino Andate a prendere Il liquepigiamento Per avviare la missione Quindi per entrare nella nave Una volta indossato Uscirà questo outfit Dopodiché potete anche cambiare sessione Vi consiglio Prima di cambiare sessione Di andare all'ammunation E salvare questo outfit Ok? Quindi ragazzuoli Una volta che abbiamo Questi requisiti Possiamo partire Allora ragazzuoli Andiamo in un negozio Qualsiasi sulla mappa Con i nostri joggers arancioni Iniziamo proprio dalle scarpe Perché siamo vicini Andiamo su scarpe Andiamo su sneakers E andiamo a prendere Gli sneakers alte 15 su 37 Mi raccomando Guardate sempre il nome E non il numero Perché potrebbe cambiare A questo punto ragazzuoli Ce ne andiamo Sulle parti superiori Parti superiori Dobbiamo andare a prendere Le giacche da lavoro Giacche da lavoro Mi raccomando Giacche da lavoro 12 su 58 E andiamo Scusate Giacche tattiche E andiamo a prendere Gli 61 su 79 Ok? Quindi da avviatore Arancione Perfetto Una volta che abbiamo Indossato la giacca Facciamo una volta cerchio E andiamo a prendere Le magliette Dei signer Che poi ovviamente Servirà Per glitchare Il nostro giubbotto Quello del porto Ok? Quindi magliette designer E andiamo a mettere La maglietta Nero con stampa Mi raccomando Importantissima Se non glitchate Nada de nada L'andiamo a selezionare Così mi vado pure a sbaggare A questo punto Andiamo Anche negli accessori E andiamo a mettere Anche i guanti Quindi riparto da zero Facendo l'outfit Quindi quello base Andiamo negli accessori Andiamo su guanti E ovviamente Andiamo a mettere Dei guanti neri Ok? Quindi Corazzati Neri Andiamo a selezionare Mi vado a sbaggare anche Ovviamente la parte superiore Quindi la faccia In modo da partire Tutti quanti insieme Sempre Ovviamente Dall'outfit base Togliamo anche Gli occhiali Perché adesso Non servono A nada de nada Anzi mi raccomando Quando partite Con l'outfit base Proprio come sono io Non dovete avere Nada de nada In faccia E neanche in testa Andiamo a salvare Mi raccomando O sul primo O sull'ultimo slot Perché dopo Dobbiamo andare a glitchare Poi il giubbotto Quello del porto Quindi vado a salvare Sull'ultimo slot Dopodiché faccio Una volta cerchio E andiamo su Completi tute E andiamo a prendere Il completo tute Quella da scienziato Ok quindi Ovviamente è indifferente Che sia scienziato E se vi faccio vedere Che sia lo scienziato Lo sterminatore Eccetera eccetera L'importante è che scegliete Uno di questi quattro Io vado a prendere lo scienziato A questo punto ragazzoli Mi reco Ovviamente in un cannocchiale Più vicino Che ragazzoli Una volta arrivati Al cannocchiale Andiamo verso Il cannocchiale Premiamo Freccia destra Touchpad Premuto Andiamo Su stile Andiamo a selezionare L'outfit basi Che abbiamo appena creato Quindi Questo qui Cerchio 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 A questo punto ragazzoli Ovviamente esce la maschera Dallo scienziato E adesso E adesso questo outfit Ce l'andiamo a salvare Al negozio Di maschere Ok ragazzoli Una volta arrivati Al negozio di maschere Andiamo nella sezione Sempre qui Delle magliette E a questo punto Premiamo freccia destra E andiamo semplicemente A sovrascrivere Mi raccomando Sempre o nel primo O nell'ultimo slot Io vado a sovrascrivere A questo punto Dobbiamo fare Option Online Attività Naviattività Create da Rockstar Missioni E andiamo sul lavoro da titano Ok ragazzoli Non altri arrivati Nel lavoro da titano Ci dobbiamo assicurare Di avere La maschera Questa qua Dello sterminatore Dello scienziato Eccetera eccetera E non avere La maglietta sotto Nero con stampa Ok Importantissimo Se no non mi va Nada de nada Ora questo outfit Ce l'andiamo a salvare In un ammunition Qualsiasi Ok Una volta arrivati All'ammunation Entreremo dentro A questo punto Andiamo di nuovo A sovrascrivere Sempre sullo stesso slot Mi raccomando Quindi quadrato E andiamo a sovrascrivere Io vado a sovrascrivere Sempre sull'ultimo slot Una volta che l'abbiamo salvato Cerchio 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 Facciamo Alziamo il telefono Facciamo X Quadrato X Ok ragazzone Una volta arrivati in sessione Servirà proprio l'outfit Che vi ho fatto vedere Prima Quindi io vado a prendere L'outfit Della missione Dell'autofficina E ovviamente Andiamo a prendere Questo outfit Mi raccomando E ad avviare A questo punto Affare G Quindi vado a fare Option Online Attività Avviattività Andiamo su preferite Missioni E andiamo ad avviare Affare G Io vi ricordo Che affare G Lo trovate nei gruppi Telegram Con il comando Slash Affare G Ok ragazzone Una volta nella lobby Mettiamo completi salvati Mi raccomando E invitiamo Un nostro amico E ci mettiamo su gioca Fate attenzione Avviamo l'organizzazione A questo punto Una volta che il nostro pg È alla guida Premiamo il touchpad Andiamo su ceo Gestione Stile Una volta freccia sinistra Una volta freccia destra Cerchio 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 E premiamo triangolo Come vedete ci ha gliciato Ovviamente il giubbotto Quello del porto Insieme alla nostra giacca tattica Adesso questa giacca Ce la andiamo a salvare Direttamente al negozio Di maschera Ok ragazzone Una volta arrivati Al negozio di maschera Innanzitutto Andiamo a salvare Questo outfit In modo da Non sbaggarlo E averlo già salvato Quindi io vado Semplicemente A sovrascrivere Dopodiché Ragazzuoli Dobbiamo andare Su Prima di tutto Copricapo Ok Quindi andiamo su copricapo Andiamo su caschi Dopodiché Quindi caschi Mi raccomando Caschi 16 su 31 Andiamo a prendere il casco Quello appunto Da pompiere Ok Quindi ce ne sono due tipologie C'è sia quello giallo Che quello arancione Noi ovviamente Andiamo a prendere Quello arancione Perché secondo me Ci sta molto meglio Rispetto a quello giallo Quindi andiamo a prendere Questo qua arancione Ok Questo però Con gli occhiali Perfetto Poi è indifferente Se vi piace anche senza occhiali Potete utilizzare anche quello senza occhiali Ok Vi faccio vedere tutti i due modelli Andiamo anche a prendere La maschera Ok Dobbiamo andare a prendere Quella colpo al casino E andiamo a selezionare Quindi Il rebreater Che possiamo chiamarlo Un rebreater Arancione Ovviamente non è quello Originale Ma è comunque Un rebreater Diciamo un respiratore Arancione Lo andiamo a selezionare Dopodiché Ragazzuoli Ce ne andiamo Al cannocchiale Più vicino Ok ragazzuoli Una volta arrivati al cannocchiale Andiamo verso il cannocchiale Premiamo Touchpad Treccia a destra Touchpad Andiamo Su stile Andiamo su accessori E andiamo a mettere anche Gli occhiali Vi consiglio Quindi in un negozio Qualsiasi Sulla mappa Andare a comprare Gli urbani Gialli Si trovano Nella sezione sportive Facciamo cerchio 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 E ci allontaniamo Ovviamente dal cannocchiale Come vedete Ci ha glicciato Anche gli occhiali Che secondo me Ci stanno ancora meglio Rispetto ovviamente A la foderina Del respiratore A questo punto Andiamo a completare Il nostro outfit E ce ne andiamo In questa parte Della mappa Proprio dove c'è Il night club Ok quindi Questa parte qua In questo negozietto Semplicemente A sovrascrivere Quindi lo vado a mettere Sul mio slot Vado semplicemente A sovrascrivere Dopodiché facciamo Una volta cerchio E andiamo Su completi Da pilota Ok quindi Andiamo a selezionare Un completo qualsiasi Va benissimo ragazzuoli Tanto indifferent E da questo punto Senza prendere Nessun veicolo Tanto è dall'altra parte Della strada Anzi ci andiamo insieme Andiamo proprio Dove c'è Il night club Ok quindi Ve lo faccio rivedere Di nuovo in mappa Adesso Dobbiamo andare In questo punto Della mappa Ok quindi Questo è il punto preciso Della mappa C'è questo tacco Sulla mappa Entreremo All'interno Del night club Una volta che saremo All'interno Fate bene attenzione A questa parte Touchpad Andiamo su stile E andiamo a selezionare L'outfit Che abbiamo Appena Creato Ok A questo punto Facciamo cerchio 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 E usciamo Dal night club Semplicemente Uscendo Dal night club Come vedete Rimane anche Il tubo Ovviamente Glicciato Quindi questo outfit Adesso lo andiamo a salvare Al negozio Proprio di fronte Ok ragazzuoli Una volta arrivati Ovviamente al negozio Andiamo dalla cassiera Quadrato E andiamo semplicemente A sovrascrivere Un outfit Veramente Favoloso Facile da fare Questa giacca Glicciata Con il gilet Del porto È spettacolare Secondo me Cioè È una bellezza unica Una bella sciccheria Veramente Favolosa Ragazzuoli È facile da fare Mi raccomando Se avete bisogno Di qualche aiuto Scrivete nei gruppi telegram Fissati Nel primo commento Ragazzuoli Se vi è piaciuto questo video Lasciate un bel like Condividete Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Al prossimo video Bella